Ciao a tutti stelline e ben atterrati sul canale! Allora finalmente è arrivato anche il video tag tanto atteso, dico tanto atteso perché in una live ultimamente avevo parlato di questo video tag che volevo fare, quindi 50 sfumature di me e delle mie passioni. Per costruire questo tag che ho inventato io di sana pianta, quindi vi dico già che non è un tag che ho preso da qualcun altro, così ho voluto fare un'opera di creatività e ho taggato alcuni canali che normalmente trattano di profumi come me e anche un canale che non tratta di profumi che è l'unico in realtà tra questi, quindi io spero che questo tag sia ben accolto, vedete dallo sfondo che vi sto presentando che è un tag abbastanza leggero e carino ma anche con delle domande un po' particolari perché noi parliamo di 50 sfumature di noi stessi ma anche delle nostre passioni, quindi queste 50 domande qualcuno mi ha detto è bello impegnativo eh Martino mi riferisco a te, mi ha detto io l'ho proposto ad alcuni canali che ora vi dirò quali sono e di cui metterò ovviamente il tag in fondo, il link del canale in fondo in modo che potrete vedere anche loro, io parlo di quelli che mi hanno accettato il tag e naturalmente aggiungerò anche un canale che mi ha detto va bene impegnativo ma lo valuterò e vi dirò anche quale perché così voi potete trovare anche le loro 50 risposte. Allora la prima a cui ho chiesto di partecipare a questo tag è Cristina del canale Miss Tenerelli ero in una sua bellissima live del mercoledì gliel'ho chiesto e Cristina ha consentito quindi top grazie Cristina, quindi poi andrete a vedere anche il suo video, il mio è io come ho detto lo facevo uscire entro la fine della settimana e loro lo faranno nei prossimi giorni ovviamente, poi l'ho chiesto a Mauro del canale Mauro i Profumi, poi l'ho chiesto a Cristi Settacristiana del canale Cristi 74 che ha consentito con molto entusiasmo anche lei quindi andrete poi a vedere eventualmente anche il suo canale, l'ho chiesto a Moreno Dedo, il diario di Dedo che non è un canale di profumi ma ha aderito, è un canale nuovo che c'è da poco, ha aderito anche lui a rispondere a questo tag perché comunque i profumi gli piacciono e poi comunque ci sono tante altre domande a cui rispondere che non parlano solo di profumi. Tra parentesi in queste 50 domande chiunque non volesse rispondere non è obbligato perché fai il tag ovviamente ragazzi, ci sono anche domande magari che possono essere un po' strane, particolari, curiose, se non volete dite non rispondo ok? Benissimo, poi chi ho taggato? Cuba Libre di cui non so ancora, non mi ha ancora detto ma io facendo il video, dovendo fare il video non so ancora se lei poi vorrà farlo, comunque io taggo anche Cuba Libre perché l'adoro, spero che tu lo faccia tesoro, che tu poi veda il mio messaggio che non ho fatto in tempo forse a mandartelo troppo subito e Martino che appunto, Martino mi ha detto è un bel tag complicato però vediamo, vediamo, ho detto 50 domande sono tante, comunque taggato anche Martino Parfum World quindi andate poi a vedere eventualmente anche lui partiamo con le 50 famose domande allora, prima, questo è facile, le prime sono partita leggera allora, dove sei nato? Io sono nata ad Alessandria ah ragazzi, metterò tutte le domande scritte sotto in fondo al canale così almeno ovviamente i canali taggati avrete molto più facile vedere tutte le domande spero che poi questo tag che rimane libero, chiunque lo voglia fare lo faccia naturalmente non ci sono, anzi mi fa molto piacere, potete tranquillamente farlo tutti anche chi non è taggato se poi vedrà il video e gli piacerà questo tag un po' impegnativo, un video un po' lunghetto però insomma, a volte fa piacere, no? conoscere meglio gli youtuber che amiamo le persone che amiamo quindi una, diciamo, una presentazione fatta con bella corposa può anche piacere, no? andiamo avanti quindi, dove sei nato? La prima domanda è in Alessandria seconda, qual è il tuo segno zodiacale? qui ho messo domande che spesso voi mi avete fatto in realtà e a cui magari non ho risposto quindi ho raccattato un po' di domande che mi avete fatto nei commenti un po' su Instagram e un po' le ho fatte io per, diciamo, mia curiosità di vedere anche le risposte degli altri quindi è un misto di tante domande che ci sono allora, qual è il tuo segno zodiacale? quindi la seconda domanda è l'acquario acquario ascendente scorpione allora, terza domanda partiamo coi profumi qui c'è un profumo di cui sei totalmente innamorato ora in questo momento io ora sono estremamente presa e voglio comprarlo di un profumo di icchia che si chiama Megamare di Orto Parisi anzi, chiedo qua se poi vedrete questo tag e mi rispondete nei commenti chiunque, visto che ci sono esperti di profumi che magari, ovviamente, faranno questo tag mi piacerebbe una vostra opinione su questo profumo io l'ho sentito diverse volte ma non l'ho mai comprato lo vorrei comprare so che costa veramente caro siamo intorno ai 150 euro quindi non è proprio pochissimo quarta domanda hai delle insicurezze e se sì, quali sono? boh, ragazzi io questa domanda me l'avete fatta voi io insicurezza ne ho una marea non so nemmeno da dove partire ne dico qualcuna del momento diciamo che in questo periodo io ho talmente tante insicurezze se ce la faremo uscire da questo da questo incubo che stiamo vivendo a livello totale, mondiale che mi basterebbe già togliermi quella insicurezza lì ecco, diciamo che quella lì ma è solo che vedendo quanto vanno male le cose non lo so non voglio essere pessimista comunque la mia più grande insicurezza in questo momento è che non ci sia un fallimento dello Stato che non ci sia un fallimento dell'Italia che invece è una cosa di cui parlano un po' troppo la guerra è tutto il resto perché la paura è questa qua e poi anche quella di essere invasi da farine di grilli cibi che non vogliamo mangiare leggi che non vorremmo eccetera ecco, queste sono le mie più grandi paure e insicurezze del momento a livello personale se voi volevate intendere a livello personale mio di insicurezze neanche lì ne ho tante certo ne avevo molte di più a vent'anni a trenta anche poi ho cominciato a non averne più tante averne molte di meno perché ho cominciato sinceramente a fregarmene molto di più di quello che pensano gli altri e quindi ne ho molte meno diciamo di prima quinta domanda qual è il tuo piatto preferito questa me l'avete fatta anche voi questa qua su instagram e il mio piatto preferito in realtà non è uno solo ma ne dico uno che mi piacerà sempre ed è la farinata una cosa molto più ligure e piemontese non so se è un piatto che conoscono dal centro Italia in giù io ho vissuto a Latina 10 anni là non era una roba in voga non si trovava molto però diciamo che è la farinata splendido piatto fatto con la farina di ceci eccetera ma penso che comunque la conosciate poi andiamo alla sesta domanda cosa ti spaventa di più in assoluto questa è una domanda che mi ha fatto un ragazzo su messenger se non sbaglio perché ha visto ieri la diretta che abbiamo fatto su facebook con Moreno e quindi me l'è venuta a fare allora io l'ho aggiunta tanto ti saluto Alberto se vedrai il video allora cosa mi spaventa di più in assoluto sì lo so dai allora lo dico le malattie le malattie sono una persona assolutamente ipocondriaca chi mi conosce lo sa le malattie mi spaventano di più di tutto poi il dolore fisico la paura del soffrire ecco perché poi se dovessi crepare all'istante senza accorgermene va bene va bene andiamo avanti allora settima domanda stiamo andando belli spediti dai la canzone che vorresti come colonna sonora della tua vita questa la so allora io non ho mai saputo bene dire ogni volta che mi hanno fatto sta domanda qual è la tua canzone preferita è difficilissimo perché ne ho un miliardo ma un giorno una persona mi ha fatto questa domanda che mi è rimasta impressa ed era proprio questa e quindi l'ho voluta mettere in questo tag qual è la canzone non la tua preferita ma quella che vorresti mettere come colonna sonora della tua vita allora io vorrei mettere non so nemmeno io perché ma vorrei mettere johnny and mary cantata da brian ferri solo cantata da lui anche se ho sempre amato la canzone originale quella cantata da robert palmer che insomma è un grande pezzo però in realtà quando ho sentito la cover fatta da brian ferri sono rimasta proprio scioccata inoltre se l'andate a vedere su youtube ha due video uno dove lui canta in un night molto bella ma non ce n'è un'altra dove c'è un video strepitoso tutto in bianco e nero che è una vera e propria storia con immagini pazzesche ragazzi praticamente sembra un film girato da un grande regista quindi johnny and mary cantata da brian ferri allora poi parlando ottava domanda l'ottava domanda è parlando ancora di profumi quali sono le tre note olfattive che preferite questa è una domanda che mi avete fatto voi nei commenti quali sono le tre note olfattive che preferisci sentire in questo periodo però le tre note olfattive che preferisci sentire in questo periodo allora in questo periodo in cui stiamo andando praticamente ci stiamo tuffando nella primavera io qua ho smemoranda però ho anche le farfalle dovevo mettervele allora ne dico subito due giacinto la nota di giacinto io l'adoro la nota di garofano io l'adoro e poi in realtà io amo moltissimo anche la nota di in questo periodo specialmente di mimosa l'amerei tutto l'anno ma è roba di questo periodo quindi queste tre note olfattive in particolare quella di giacinto io la proprio stra amo molto difficile anche da trovare purtroppo nei profumi anche la mimosa vabbè ne ho presa una fantastica da zara allora poi mimosa non ha domanda hai un fidanzato una fidanzata un compagno o una compagna questa è una domanda fatta su instagram io l'ho detto tante volte sì ho un fidanzato ci siamo fidanzati nel 2020 con luca e speriamo anche di riuscire a portare avanti i nostri progetti con molta fatica perché con tutto quello che ci sta succedendo a noi in generale mamma mia ragazzi vabbè andiamo avanti domanda numero 10 ah naturalmente ripeto chi non volesse rispondere a tutte le domande ragazzi chi è taggato o chi vorrà fare questo tag siete liberi di rispondere a quello che volete potete anche proprio saltare la domanda senza farla anche se sono 50 le domande no 50 sfumature di me perché sono 50 domande però chiaro no se c'è una domanda a cui non volete rispondere non è anche se io non sono andata nei dettagli non ho fatto domande particolarmente toste diciamo così o almeno credo decima domanda dicevo hai un grande sogno nel cassetto quindi piccoli sogni ne ho molti beh sì un grande sogno è quello della casa al mare che è abbastanza grandino sì grandino insomma alla nostra portata perché vorremmo portare avanti questa cosa in qualche modo e in particolare vorremmo una casa a Sanremo insomma si sa lo sapeva chi mi segue lo sa poi qual è la frase undicesima qual è la frase che ripeti spesso a te stesso se c'è questa è una domanda che ho preso da non mi ricordo più da dove però mi è stata fatta non è una domanda che ho scelto io e infatti in questo momento adesso io non ho risposto prima quindi qual è la frase che ripeti spesso a te stesso se c'è in realtà ci sono delle cose che mi ripeto spesso a volte positiva a volte non positive comunque una frase che cerco di ripetermi spesso è forza andiamo avanti nonostante tutto sempre questa me la ripeto spesso come un mantra e anche quando faccio meditazione è una frase che trovo sia positiva quindi me la ripeto spesso si va sempre avanti perché vale la pena secondo me poi dodicesima domanda la città la città in cui vorresti vivere la città in cui vorrei vivere ma premesso che io non mollerei Alessandria come punto di base cioè io sono attaccatissima alla mia città quindi però c'è una città dove mi piacerebbe vivere io ho vissuto come vi ho detto per molto tempo tra Roma e Latina dieci anni più che altro a Latina ma avevo Roma attaccata a 20 minuti di treno cioè Roma è un tiro di schioppo da Latina quindi mi godevo le bellezze di Roma stando a Latina con Sabaudi al lungomare meraviglioso Sperlonga che c'è vicino a Latina che il Circeo insomma una zona bellissima Latina beh vorrei stare a Parigi dai Parigi tredicesima domanda secondo te i profumi devono essere indossati a tempo e luogo cioè adattati o è indifferente nella maggior parte dei casi beh allora questa è una domanda che mi avete fatto chiaramente voi perché vedete un po' la tipologia di molti dei miei video dove io dico spesso questa cosa e quindi me l'avete poi chiesto allora ragazzi io forse me l'ha chiesta un ragazzo questa domanda comunque io penso che i profumi non possano essere indossati proprio a casa allora se siamo in casa nostra e vogliamo sentire un profumo perché ci gira così possiamo fare tutto quello che vogliamo quando si esce io personalmente parlo di me io personalmente non apprezzo e non mi piace né per me né per gli altri profumi totalmente fuori luogo nel senso che se vado a una serata importante o vado a teatro non mi piace mettere il profumino che ne so al bublegum anche se poi magari a casa volevo sentire quella profumazione ecco l'ho fatto proprio un esempio estremo quindi i profumi troppo fuori luogo e quelli molto molto maschili su una donna io lo faccio ma me li sento a casa se mi piacciono altrimenti per uscire no quelli particolarmente tosti d'estate no ma anche perché non li sopporto ecco quindi penso che questa domanda che mi avete fatto tante volte tra l'altro me l'avete chiesta tante volte io rispondo sempre in questo modo poi chiaramente ragazzi ognuno è libero di mettere tutto quello che vuole di sentire i profumi quando cavolo gli pare però poi ha senso insomma mettere un profumo adatto alla stagione su un uomo piuttosto che su una donna cioè mi sembra abbastanza insomma chiaro no ecco io un profumo come che ne so Poisson classic da donna il Dior su una ragazzina di 15 anni non ce lo vedo ecco tanto per essere proprio anche qui chiari Chanel numero 5 lo vedo bene su una ragazza una donna dai 30 in su sulla ragazzina a 15 anni anche quello lì per me è una nota un po' stonace è troppo no ci sono altri profumi ecco insomma volevo dire solo questo però ognuno poi può rispondere come meglio crede quale quattordicesima quale fiore o pianta ti rappresenta ti rappresenta potendo scegliere questa è una domanda che ho fatto io invece allora il fiore che mi rappresenta che mi piace è il giacinto ed è anche la nota olfattiva è il fiore che mi piace di più in assoluto e la pianta sì mi piace moltissimo il glicine e il tiglio perché hanno dei profumi anzi forse il tiglio ancora di più mi piace da impazzire poi andiamo alla quindicesima come ti vedi fra cinque anni allora fra cinque anni mi vedo spero di nuovo sposata per la seconda volta felice con la mia famiglia con i miei nipoti mio fratello spero mio papà facciamo le cona che siamo tutti bene il mio futuro marito e spero che ci sia ancora il suo cane che purtroppo ha un po' di anni altrimenti un altro cagnolino allora domanda numero 16 se potessi avere un super potere questa me l'avete chiesta su instagram questo è forte allora se potessi avere un super potere quale sarebbe ragazzi volare fin da piccolo avrei voluto volare quindi volare anche volare via nei momenti di pericolo perché altrimenti in assenza di quel potere lì saper usare le arti marziali ai livelli di teste di cuoio che ne so a livello di big g di bruce lee ecco insomma autodifesa spaziale ecco una roba così però volare quello mi piacerebbe davvero tanto in effetti ce ne sono due tre anche diventare invisibile poter beccare scoprire gli altarini anche quello vabbè vabbè andiamo avanti comunque volare in assoluto il primo poi domanda numero 17 parli qualche lingua straniera o qualche dialetto allora questa qui è una domanda che mi arriva da messenger e l'ho raccattata vedete quante ne ho raccolte io parlo oltre all'italiano ovviamente il dialetto piemontese lo parlo lo capisco perfettamente e parlo la lingua francese perché la studio da quando ero piccola e spero di avere anche una buona pronuncia una bella una pronuncia decente insomma la parlo abbastanza bene calcolando anche che mia mamma era di origini francesi abbiamo dei parenti dei cugini a Nizza in costa azzurra siamo mezzi pugliesi io e mio fratello da parte di papà e per metà piemontesi con origini francesi da parte della mamma allora poi domanda 18 come si svolge la tua giornata di routine ah questa vabbè questa altra roba questa me l'avete chiesta voi di youtube sul canale whatsapp della mia community va bene allora dunque la mia giornata di routine si svolge così mi sveglio allora la mattina mi sveglio di solito abbastanza presto perché lavorando quando faccio specialmente il turno la mattina io ho dei turni mi devo alzare abbastanza presto poi altrimenti cerco di dormire un po' di più quando posso e quindi varia un po' non è sempre uguale comunque mi piace fare una bella colazione molto abbondante sempre quasi sempre salata io amo le colazioni salate all'inglese mi piacciono al mattino mi piace il toast le uova mi piacciono le tartine con burro e salmone mi faccio sempre queste cose di dolce solo il caffè un buon caffè quello è rinunciabile poi anche cereali integrali che fanno molto bene insomma le mie colazioni sono belle sostanziose poi diciamo che appunto lavoro faccio delle commissioni normalmente tengo anche il telefono staccato perché di solito la mattina ho sempre tantissimo o da fare o appunto mi riposo se ho lavorato fino a tardi quindi la mattina sono abbastanza irreperibile poi accendo il telefono a meno che appunto non sto facendo qualche lavoro per cui sono allora magari accendo il telefono ma di solito il telefono elimino cerco di isolarmi un po' anche perché lavoro molto sul computer e sul telefono quindi ragazzi cerco anche di riposare di staccare un po' la mente da questi apparecchi elettromagnetici che proprio benissimo non fanno poi bel pranzo ovviamente mangio solo il primo e di solito io mangio solo il primo e la verdura non mangio tutto il pranzo completo poi ovviamente commissioni si esce si fa la spesa si fanno i lavori di casa si fanno i video su youtube si risponde ai vostri commenti si fanno le pulizie si fanno le commissioni si torna a casa qualche volta si lava e si stira si torna a casa si prepara la cena per me per papà si guarda un pezzettino di qualche trasmissioncina così si guarda il telegiornale di bio blu leggo qualche giornale online perché poi non compriamo tanti giornali quotidiani quindi do un'occhiata alle notizie del giorno e mentre ceno di solito anche mi piace rilassarmi con un po' di buona musica e dopodiché mi godo un po' ho un bel libro un po' di televisione qualche telefonata con gli amici la sera oppure esco ovviamente e poi naturalmente sento il mio fidanzato insomma questa è la mia giornata di routine diciamo detta così alla spicciolata alla spicciolata poi ho perso il segno di dove era arrivata siamo arrivati alla domanda 18 19 allora siamo a metà come vorresti invece che fosse la tua giornata ideale se potessi ah sì sì perché lui mi aveva detto tu dimmi qual è la giornata allora la giornata di routine e qual è quella che invece vorresti tu beh quella che vorrei io è tutta diversa da questa qua ragazzi vabbè allora la giornata che vorrei io è tutta diversa perché allora io vorrei svegliarmi la mattina davanti al mare quindi abitare comunque anche tenendo il punto fermo in Alessandria io vorrei abitare al mare ecco perché voglio quella casa quindi io vorrei abitare davanti in una casa davanti al mare fare una bella colazione sul balcone come quella che avete visto che ho fatto quando sono andata a Sanremo godermi il mare mentre faccio una bella colazione sentire buona musica scendere alla spiaggia fare un bel giro per i negozietti dei budelli per esempio della Liguria dei paesini della Liguria come Sanremo o anche altri oppure un bel giretto in Costa Azzurra fare un bel giretto in motoscafo sentire della buona musica andare a fare shopping comprare tutti i profumi ragazzi che mi girano per la capa comprare gioielli vestiti comprare trucchi passare delle ore dal parrucchiere fare shopping sfrenato insomma poi tornare a casa non cucinare non fare una mazza andare a mangiare al ristorante un bel ristorante di mega lusso e poi alla sera uscire andare a ballare mangiarmi dei bei gelati dei dolci questa sarebbe la mia giornata ideale andiamo avanti stendiamo un velo che secondo me è pure la vostra però non voglio dire magari la vostra no non è così però non lo so andiamo avanti allora aiuto allora domanda numero 20 il film che vorresti rivedere allora questa è una domanda che ho messo io perché il film che vorrei rivedere lo so ce ne sono tantissimi ma in particolare io amo Turista per caso meraviglioso film con William Hart e la mega galattica Gina Davis interprete anche di Thelma e Louise lei era quella più giovane delle due Thelma appunto Gina Davis che ha fatto questo meraviglioso film Turista per caso che io rivedrò sempre perché e poi ci sarebbe anche il danno anche il danno meraviglioso film mezzo inglese e mezzo francese con una Juliette Binoche pazzesca il danno con frasi in quel film che mi sono rimaste tantissimo impresse forse ci faccio un video per una recensione di questi due film sì ce lo farò anzi me lo segno proprio qua su Smemoranda lo voglio fare perché questi due film mi hanno segnata per vari motivi sono legata a questi due film per vari motivi quindi ne parlerò quindi comunque diciamo turista per caso domanda numero 21 quanti amici veri hai sai dire il numero esatto allora di amici veri ne ho sì alcuni il numero esatto allora ci penso dunque uno due tre vabbè non vorrei offendere altri ma io dico tre io dico tre non faccio i nomi dai non li faccio però anche perché poi so che li vedono però in particolare diciamo quelli che proprio io reputo amici per sempre amici di sempre e da sempre da quando avevo proprio alcuni da quando avevo vent'anni altri da quando ne avevo trenta qualcuno un po' più recente però sono tre sono tre se devo dire il numero esatto è questo poi domanda 22 dove vorresti essere ora ora alle Maldive chi è ecco vorrei essere alle Maldive poi domanda numero 23 tre cose in allora scusate tre cose indispensabili per te a livello personale o generale allora tre cose indispensabili per te scusate perché scrivo talmente male che non riconosco manco la mia scrittura allora tre cose indispensabili per te a livello personale o generale come preferisci ah ok perché questa è una domanda che mi avete fatto dove che l'ho scritto ah sì sì questa è una domanda che mi avete fatto su facebook che mi hanno fatto su facebook ieri dunque e quindi l'ho aggiunta questa è dalla pagina sindistar su facebook allora ragazzi tre cose indispensabili per me a livello personale vabbè a livello personale per me indispensabile è indispensabile avere l'amore perché senza l'amore siamo tutti fregati anzi al primo posto la salute la salute l'amore a livello personale la salute l'amore e l'amicizia sì perché l'amicizia io la metto al pari dell'amore gli amici per me sono una una cosa importante quanto la mia famiglia quindi l'amore intendo l'amore in generale della mia famiglia delle mie persone care la salute e l'amicizia per me queste sono tre cose parlando a livello personale a livello generale tre cose indispensabili sarebbero sarebbero che insomma che venga la pace al numero uno e perché messi come siamo stiamo rischiando la fine del mondo e numero due che non ci sia più una prevaricazione totale su di noi sull'Italia in particolare perché ci stanno mettendo i piedi in testa e e poi che posso dire spero che non vengano altri virus altre pandemie perché minacciano quello boh andiamo avanti queste sono le tre cose che per me contano che a livello generale poi per carità ci sarà anche la fame nel mondo ce ne sono tante ognuno può dire le sue per me sarebbero queste poi preferisci il giorno la notte la domanda numero 24 in realtà non ho mai saputo bene quale rispondere sono affascinata dalla notte dalla pace dalla tranquillità e dal fascino incredibile della notte però adoro poi i fiori il giorno il sole non so forse la notte però la notte mi affascina di più dai sono sincera la notte poi domanda 25 vediamo un po' allora c'è un profumo particolare torniamo sui profumi nei tuoi ricordi più cari ma può essere anche un odore di cibi o di oggetti piuttosto che una fragranza quindi se c'è un odore particolare nei nostri ricordi più cari allora non mi ricordo questa domanda da chi proveniva però me la sono segnata quindi allora sì ce ne sono due uno è di cibi parlo della pasta al forno che faceva mia mamma quando eravamo piccolini io e mio fratello abbiamo perso la mamma che eravamo ragazzini lei faceva una pasta al forno pazzesca e aveva un profumo eccezionale io me lo ricordo mi è rimasto impresso idem il profumo del caffè che lei mi faceva e il profumo di giacinti torniamo ai giacinti che c'era nel giardino della casa dove abitavamo quando eravamo molto molto piccoli io scendendo ma proprio ero una bambinetta piccolissima se avrò avuto 5 o 6 anni pensate è uno dei miei primi ricordi perché poi sotto i 5 anni di solito nessuno si ricorda nulla io ero piccolissima ho avuto 5 o 6 anni così mi ricordavo di questo questo odore particolare dei giacinti allora andiamo invece alla domanda numero 26 allora il tuo lavoro dei sogni sarebbe stato quale? il mio lavoro dei sogni quale sarebbe stato? se avessi potuto scegliere io avrei continuato a fare l'attrice cioè il lavoro che ho fatto per molto tempo e che mi piaceva sia di teatro sia tv cinema insomma tutto quello che ho fatto mi sarebbe piaciuto continuare purtroppo non stando più a Roma ho dovuto tornare qua finisce un po' tutto perché ragazzi per fare quei lavori lì bisogna stare a Roma sì si può continuare a fare teatro anche stando a Milano che ne so spostandosi però bisogna viaggiare moltissimo e siccome io ho dovuto tornare a casa per motivi molto importanti della mia famiglia ma molto importanti che per fortuna ho risolto benissimo ma dovevo esserci e quindi ho dovuto rivoluzionare tutta la mia vita va bene comunque questo è stato il lavoro più bello che ho avuto anche la fortuna di fare ma restava quello i personaggi famosi che più hai amato di qualsiasi tipo registi poeti attori cantanti scrittori giornalisti o scienziati allora quelli che più hai nella mente quelli che più avete nella mente voi anche che risponderete a sta domanda perché questa domanda me la fa Luca da Youtube anche lui mi scrive me l'ha scritta sulla community di Whatsapp prima ho detto il canale Whatsapp scusatemi strapparlo allora ogni tanto dico cazzate scusatemi allora allora caro Luca che ti devo dire personaggi famosi ma intanto vabbè di attori io ho sempre avuto una grande fissazione per due o tre attori due o tre attori attrici poi qua mi parli anche di giornalisti cantanti scienziati vabbè io adoro Einstein ho studiato moltissime cose di Einstein una personalità che mi ha affascinato da sempre al di là di questo adoro Leopardi con tutta l'anima come giornalisti come giornalisti Mario Giordano che me lo chiedete a fare giornalista vero grande unico poi come registi io ho amato moltissimo sempre tornatore ed è Sica e per quanto riguarda attori vabbè ce ne sono tanti davvero qua è dura vabbè contanto dico Marilyn Monroe perché per me Marilyn è Marilyn poi però al di là di quello c'è un elenco c'è un elenco comunque allora mi piace moltissimo mi è sempre piaciuta tantissimo Gina Davis mi piace mi strapiace Richard Gere da sempre e poi adoro James Pedder adoro come regista anche Ron Howard moltissimo Sofia Lauren mi è sempre piaciuta veramente tanto specialmente in coppia con Nostroianni ho adorato Anna Magnani e cantanti vi posso dire anche qua mamma mia certo che le domande me le avete fatte toste io mo le faccio in questo tag quindi poi non mi mandate a quel paese vedete voi se avete voglia di rispondere ragazzi se no no però magari può incuriosire chi ci segue sapere che cosa ci piace comunque attualmente io adoro Damiano David dei Maneskin che ha una grandissima voce del passato io amo veramente tantissimi cantanti dire quelli che proprio di più di più di più Jim Morrison Amy Winehouse Arida Franklin Dionne Warwick una delle più grandi voci Dionne Warwick e poi Etta James pazzesca e Mariah Carey che cavolo e poi vabbè la grande voce di il grande gruppo dei Queen e la voce pazzesca di Freddie Mercury andiamo avanti va perché è lunga se no troppo lunga la cosa ce ne sono troppi politici tra l'altro non rispondo alla domanda politici che ne posso zero paragone ecco paragone politici paragone e basta perché poi stendiamo un velo domanda numero 28 quali sono le persone da cui tendi a fuggire beh prima di tutto i rompiballe in secondo i falsi in terzo luogo quelli che non ci sono mai quelli che ti dicono tante parole ma fatti zero quelli che sono assolutamente persone persone che tendono a dare critiche che poi non portano a nulla che sono fatte al solo al fine di massacrare quelle che non ti vogliono aiutare quelli che non ti vogliono insegnare niente quelle lì poi che cosa quelle false che pur sapendo le cose non te le dicono quelle che si reputano amici ma poi anche quando possono aiutarti pensano solo all'anima loro tanto per dire quelli che sanno qualcosa che tu stai cercando e non te lo dicono apposta per non farti arrivare dove tu vorresti perché ci sono anche quelli no ce ne sono di quelli poi chi è che non mi piace non mi piacciono vabbè i venduti tanti venduti ho visto io in televisione ultimamente troppi andiamo avanti domanda numero 29 cosa ti piace vedere a livello di spettacolo e svago ah ok mi ricordo anche chi ha fatto questa domanda che viene da facebook allora cosa ti piace vedere a livello di spettacolo beh io adoro lo spettacolo in generale quindi beh del resto è stato il mio mondo però in particolare io adoro veramente il cinema il teatro e il cinema per quanto riguarda gli spettacoli musicali me ne piacciono molti lì però poi dipende dalla bravura e dalle persone che ci sono dentro per quanto riguarda il resto le cose di attualità ormai essendo tutte molto fasulle non le seguo e quindi di spettacolo mi piace quello poi vorresti domanda numero 30 vorresti cambiare qualcosa di te a livello fisico e domanda numero 31 e a livello caratteriale sono due domande una dietro l'altra cambiare a livello fisico vabbè intanto vorrei avere di nuovo 20 anni di meno prima roba tornare come ero quando avevo 30 anni che è stato il periodo più fiore più bello in cui sono stata secondo me come piaceva a me per quanto per quanto riguarda livello caratteriale invece vorrei essere più fregarmene ancora di più di quanto me ne freghi adesso di quello che dicono gli altri esatto poi domanda numero 32 preferiresti essere ricco o famoso beh intanto vorrei tutte e due e allora diciamo che una persona famosa forse di più famoso perché quello famoso difficilmente povero quindi famoso sia anche ricco certo essere famosi diciamo una cosa però essere famosi a volte è una bella menata perché nel periodo in cui sono stata un po' conosciuta quando ero a Roma e alcune persone mi riconoscevano specie quando ho fatto quella pubblicità con Danny Queen che ha martellato in televisione andava ogni giorno su Rai Mediaset le persone specialmente intorno a me mi riconoscevano tutti era un po' una menata nel senso che era molto bello dava soddisfazione per carità però ti senti in dovere di essere sempre a posto quando esci sempre controllare tutto e io a volte sono molto scialla cioè mi piace a volte anche essere per i cazzi miei ragazzi no quindi una persona mi immagino che una persona veramente ancora molto molto famosa proprio famosissima per dire che viene riconosciuta da cani e porci è una bella menata perché non sei più tanto libero io mi ricordo sempre di Marilyn Monroe tanto per dirne una di Marilyn una frase famosa che magari tutti avete anche sentito Marilyn diceva sempre che per essere un po' più libera a respirare diceva lei a volte si metteva una parrucca nera in testa si travestiva per uscire e star tranquilla senza che le rompesse con le balle quindi essere famosissimi può anche essere una rottura di balle però tant'è che piacerebbe a tutti mi sa andiamo avanti un gruppo musicale che ti fa domanda 33 un gruppo musicale che ti fa sognare sia del presente che uno del presente e uno del passato beh del presente i Mineskin e del passato i Beatles dai perché poi del passato io adoro i Queen e adoro i Doors però diciamo che dei Beatles ancora di più forse adesso mi piacciono molto i Mineskin davvero tanto Damiano ha una voce strepitosa pertanto che poi possa anche non piacere il genere rock ma io per me il genere rock comunque è uno dei miei generi preferiti in assoluto il rock tranne il metal mi piace moltissimo il rock hard anche il rock duro il rock melodico mi piacciono i vari tipi di rock sì assolutamente allora andiamo al 34 ci avviamo verso la fine andiamo un po' più spediti magari una cosa imbarazzante che ti è successa e che hai detestato mamma mia allora potevo metterle in un altro ordine queste domande o magari toglierne qualcuno sì vabbè io ho voluto farle un po' quelle che mi avete fatto voi poi ero curiosa di alcune che ho voluto mettere io quindi alla fine sono e poi scusate 50 sfumature so 50 domande ragazzi non so se no non ha senso comunque imbarazzanti me ne sono capitate una marea vabbè una molto no una molto imbarazzante a roma a roma appunto ero stavo recitando ero durante un film e c'era raul bova con me io ho una piccola parte ragazzi ho dimenticato totalmente tutto quello che dovevo dire e quando sono arrivata lì sul punto dove dovevo cominciare la mia battuta non solo non me la ricordavo ma sono inciampata e caduta lunga per terra non vi dico i romani a bella che stai a fa mamma mia mi hanno massacrata a mani a patate mi hanno detto di tutto ovviamente la piemontese che si dimentica le battute che stai a fa tutto così quindi è stato terrificante mi ricordo che raul bova si è messo a ridere anche altri però sono stati gentili perché sono arrivati mi hanno tirata su quasi di peso perché mi sono fatta male ho sbattuto forte una ginocchiata pazzesca ma insomma poi avevo dei trampoli vabbè quindi quella è stata tosta ce ne sono state anche molte altre ma quella lì una di quelle veramente poi allora domanda numero 35 hai rimpianti si uno ma non lo voglio dire ho un rimpianto una cosa che riguarda mia madre non mi va scusatemi non mi va di raccontarla questa domanda me l'ha fatta una persona di youtube che non mi segue neanche sempre ma mi ha fatto questa domanda in privato e no no non mi va di dirla scusami io l'ho messa la domanda però la dico per gli altri comunque ho detto che ne ho uno ecco domanda numero 36 la tua vacanza ideale beh questa è una domanda che avete fatto ma io ho già risposto tante volte anche prima la vacanza ideale è al mare per me al mare però preferirei posti che magari non ho ancora visto quindi mi piacerebbe sicuramente andare tipo alle Maldive o in un posto tipo le Seychelles che mi hanno anche proposto ma a volte fare un viaggio così impegnativo non ne ho avuto voglia e qualche volta avrei potuto forse già andarci almeno in uno di questi due posti ma chissà magari ci andrò perché la curiosità di vederlo c'è domanda numero 37 un oggetto che salveresti se la tua casa andasse a fuoco lo so questo lo so ed è una domanda che ho fatto io mi è venuta in mente perché l'ho sentita fare a qualcun altro e mi è piaciuta e mi è piaciuto perché ho proprio voluto pensare ma io cosa salverei davvero perché è importante questa cosa sembra una domanda sciocca ma non lo è io salverei se io potessi scegliere una sola cosa dovessi scappare fuori casa adesso mentre sto registrando che ne so perché viene il terremoto perché per qualsiasi motivo facciamo le corna io prenderei le due scatole o la scato insomma un oggetto delle fotografie perché le fotografie della mia famiglia della mia di tutta la mia vita abbiamo in casa non potrei mai farne a meno sapere di non poter più vedere quelle persone visto che ad esempio di certe persone tra cui mia madre purtroppo non ho video non ho registrazioni non posso più sentire la sua voce neanche vederla in video per me le fotografie poi domanda numero questa era la 37 quindi andiamo alla domanda numero 38 allora il momento preferito della giornata anche questa mi viene bene da dirvela subito è il momento della mattina quando faccio colazione mi prendo il mio caffè quello è il momento che mi piace la colazione la colazione della mattinata sì quella mi piace poi numero 39 anche perché lì mi rilasso sento un po' di musica faccio colazione piano piano mi avvio eccetera mi piace quel momento se poi vedo che c'è una bella giornata top domanda numero 39 sei mai stato ah questa mi piace allora sei mai stato cotto perso di qualcuno al punto da sentirti due metri da terra ogni giorno questo siccome mi è capitato mi ricordo come si sta ogni tanto ci penso ragazzi ma sapete io sto parlando non dell'innamoramento del voler bene del grande sentimento dell'amore che possiamo avere anche in età più grande io parlo di quel molti secondo me non l'hanno neanche avuta sta cosa io l'ho avuta e non parlo proprio solo della cottarella dei 15 anni ma di quegli innamoramenti che possono essere corrisposti o no quindi io ne ho avuti più di uno e di uno sono stata pienamente corrisposta è stato un periodo il più bello credo della mia vita non dico ovviamente di chi però io ogni tanto penso a come mi sentivo in quel periodo e dico beh l'energia che si ha in quei momenti beh è roba folle ragazzi è roba folle comunque se volete rispondere rispondete è una cosa molto privata ma io sono stata comunque sul generico naturalmente non mi riferisco alle storie importanti perché quelle non sono quelle cose dove voi andate in questa esaltazione pazzesca perché state magari seriamente con una persona quindi si spera che siate innamorati che vogliate bene però io sto parlando di quegli innamoramenti un po' di follia no? ecco che di solito non si hanno certo quando si è adulti oppure può capitare magari capitasse perché la gente secondo me ama sentirsi in quella situazione mentale però è un po' più difficile perché si comincia a diventare sempre più logici e razionali quindi è un po' più difficile allora andiamo avanti domanda numero 40 allora qual è il pensiero che ti fa più ridere vabbè io ne ho tanti però beh devo pensare ai video di Mr Bean e alle facce che faceva olio quando guardava le cose strampalate che faceva salio ecco questi due personaggi olio cioè oliverardi grandissimo attore mitico attore comico americano e l'inglese e l'inglese come si chiama Rowan Atkinson no che era l'interprete di Mr Bean domanda numero 41 hai mai fatto qualcosa ah scusate io ho risposto cosa mi fa ridere due attori ma voi potete anche dire il mio vicino di casa quando fa che ne so vabbè adesso non voglio dire cose grevi ma non lo so qualsiasi cosa potete anche parlare di un pensiero che vi fate voi o di una persona cioè indifferente potete rispondere quello che volete non che non dovete dire un attore chiaro potete dire quello che volete voi io ho detto combinazione due attori perché mi sono venuti subito in mente in automatico vabbè anche Moreno quando fa certe facce ciao Moreno ti ringrazio ti ringrazio di tenermi su di giri quando fai certe espressioni vabbè ciao il diario di Dedo ti ho taggato poi vedremo cosa rispondi allora andiamo avanti domanda numero 41 hai mai fatto qualcosa per qualcun altro che ti ha dato una soddisfazione immensa sì l'ho fatto per mio papà e ho avuto una grande soddisfazione anche qua non voglio scendere nei dettagli è una cosa troppo privata poi la domanda è se sì quando beh questo è successo pochi anni fa quando sono tornata da Latina infatti è il motivo per cui ho dovuto tornare qua ho fatto una cosa per mio papà che mi ha reso molto orgogliosa di me stessa e mi ha dato molta soddisfazione non è per essere riuscita a fare questa cosa per lui poi domanda numero 42 c'è un animale in cui ti vorresti trasformare per un giorno se potessi sì io per un giorno vorrei essere una pantera oppure una tigre un felino comunque un grande felino sì perché sono gli animali più affascinanti e più belli oppure un'aquila perché ho sempre desiderato volare cavolo e l'aquila è l'animale che vuole più in alto ok domanda numero 43 come ti vesti quando vuoi far colpo beh vabbè io sono mi hanno detto che sono uno psicotipo drama drama o drama si dice psicotipo drama che poi corrisponde allo psicotipo mi hanno detto di samantha di quella di sex and the city perché erano quattro psicotipi loro vabbè adesso questa è un po' una roba complicata perché non sa quali sono gli psicotipi comunque io mi vesto seguo quel genere lì diciamo che non è uno stile drammatico ovviamente è uno stile di persone che insomma non amano molto la semplicità mi piacciono molto i vestiti vistosi dico la verità colorati appariscenti anche il trucco quando mi trucco mi trucco a maniera piuttosto appariscente quando invece non voglio di truccarmi addirittura vado molto così passo un po' da un estremo all'altro comunque quando voglio fare colpo sostanzialmente metto abiti attillati mi piacciono i vestiti con dei colori piuttosto forti anche perché poi sono una primavera brillante anche mi hanno detto in armocromia quindi devo usare colori con una pelle molto bianca devo usare colori piuttosto brillanti chiari e potenti come tutte le primavere brillanti tipologia calda eccetera quindi insomma mi vesto con questi colori e con questo tipo di abbigliamento che mi piace di più che è quello dove mi sento più nelle mie corde no poi il 44 la domanda 44 dice sei più istintivo o iperlogico no io sono un'iperlogica istintivo ce l'ho sì un po' di istinto a volte ce l'ho però sono una persona potentemente razionale sì io molte persone dicono che le persone più semplici istintive sono quelle più affidabili eccetera io non credo molto quello ho studiato tanta PNL penso che le persone logiche siano più difficili da conquistare ma alla fine più affidabili però vabbè non scendiamo adesso in questi dettagli comunque sono un'iperlogica io e poi essendo anche egocentrica e mi hanno detto che ho una certa dose di narcisismo quindi i narcisisti sono iperlogici ragazzi per cui non quei narcisisti cattivi anzi ho fatto un po' di terapia per capire queste cose vi sto dicendo cose un po' personali ma non scendo nel dettaglio vabbè andiamo avanti domanda numero 45 perché qualcuno dovrebbe essere tuo amico ma perché perché sono una che all'amicizia tiene molto sono molto affettuosa credo di essere una ragazza davvero sincera una donna sincera non riesco ad essere falsa come tanti posso anche mentire tutti mentiamo nella vita inutile dire cavolate perché è bugiardo chi dice che non mente mai no però la falsità no non riesco ad essere falsa ecco falsa faccio troppa fatica anzi a volte dico anche troppo quindi forse dovrebbe essere mio amico perché se vuole un giudizio sincero me lo chiede e io glielo dico ecco questa è una mia dote poi posso avere mille altri difetti magari sono una rompiballe non lo so ne ho di difetti sono ritardataria vabbè ne ho tanti poi 46 dai un voto alle giornate di sole alle giornate di neve di nebbia di vento di pioggia allora al sole do 10 alla neve 8 alla nebbia un suo fascino do 7 il vento lo detesto 0 a meno che non sia quel venticello primaverile leggero posso dare 6 e alla pioggia 5 alla pioggia non mi piace molto mi annoia sì può essere carina qualche volta così però poi ho anche paura dei temporali quindi no poi a me piacciono le notti stellate capirai quindi la notte quando è bella stellata allora lì 10 lode domanda questa era una domandina leggera domanda numero 47 siamo alla fine tendi più a guidare o essere guidato tutte e due in realtà ma preferisco guidare poi 46 48 48 siamo le ultime battute tre pregi e tre difetti che ti sono stati riconosciuti più spesso dagli altri allora tre difetti li dico subito disordinata ritardataria e beh quello disordinata ritardataria sempre più ritardataria perché poi disordinata un po' sì ma neanche tanto insomma però ogni tanto lo sono e l'altro difetto e i pregi tre pregi beh tre pregi già li ho detti prima penso di essere proprio una persona molto sincera molto affettuosa e e do stabilità insomma quando quando voglio bene a qualcuno sono molto lineare non cambio come una banderuola ecco sono molto stabile nei miei affetti e infatti ho amicizie che durano da anni e anni e ho avuto amori un matrimonio lungo importante insomma quindi quelli sono tre pregi l'altro difetto che mi manca dei tre in questo momento non so forse sono a volte troppo casinista sì sì un po' cacciarona un po' casinista ah e forse un pregio che mi hanno detto che mi hanno detto sempre un po' i registi i fotografi le persone con cui ho lavorato che sono molto elegante quando mi pongo nella mia immagine quando quando mi fotografano o mi riprendono chiaramente quando sono messa bene non quando faccio i video alla cazzo eh ragazzi vabbè mi dicevano questa cosa dell'eleganza molto spesso questo sì poi 49 il colore che ami di più e come ti piace abbinarlo è il verde l'ho sempre detto lo vedete anche qua mi piace molto abbinarlo con il viola e con l'arancio o col viola o con l'arancio o con tutte e due perché mi piace abbinarlo con questi due colori domanda 50 siamo arrivati alla fine ma poi c'è una domanda 51 di bonus che fa ridere vabbè la 50 dice tre caratteristiche che dovrei che dovrebbe avere assolutamente eh questa è bella tosta tre caratteristiche che dovrebbe avere assolutamente la persona amica o compagna per te vabbè ragazzi allora io voglio una vorrei e ho sempre cercato persone spero che che Luca quando vedrà il mio video cioè parlo del mio fidanzato lui ha queste caratteristiche altrimenti io non sarebbe il mio fidanzato comunque sono principalmente le tre caratteristiche che una persona a parte lui deve avere per essere veramente per me un amico o un amica o un compagno di vita sono la sincerità il fatto che sia presente nella mia vita che che mi sia di sostegno se io ho bisogno perché io sono di sostegno una persona se sta con me e quindi se non trovo questa qualità no mi sento sola mi sento quindi non faccio più coppia con una persona non farei coppia con una persona così e poi che ami davvero essere anche leggero divertente che ami molto divertirsi una persona triste diciamo che non ha voglia di vivere non ha voglia di divertirsi a me non piace Luca adesso ha attraversato un periodo un po' così dove non è stato bene quindi chiaramente ma noi ci siamo conosciuti ridendo e scherzando ogni giorno e insomma spero che tutto vada sempre per il meglio e quindi diciamo che questa è una caratteristica che Luca di per sé lui ce l'ha e la cerco anche negli amici nelle persone a cui voglio bene perché ridere divertirsi giocare vedete che mi piace fare i video come come faccio da un bel po' perché è un altro hobby che mi fa anche divertire ridere scherzare con voi quindi questo è indispensabile l'ultima domanda che è il sovra più il più del più dice la 51 sei stato sincero in queste domande a cui hai risposto che voto dai alla tua sincerità vabbè io do io mi do allora io mi do 9 non dico 10 perché non ho risposto a due domandine in modo completo sapete quali sono quindi non posso dire 10 dico 9 perché per il resto sono stata assolutamente sincera poi voi potrete saltare anche altre domande quindi vedrete voi che voto darvi alla vostra sincerità bene ragazzi io adesso questo video è finito naturalmente vi saluto vi ringrazio per aver avuto la pazienza immensa di arrivare fino alla fine saluto Cristina del canale Miss Tenerelli che è stata molto carina gentile ad accettare questo tag sono contenta di essere passata nella tua live di passare da te il mercoledì perché fai delle live stupende andate a vederla ragazzi chi non la seguisse quindi Miss Tenerelli poi saluto Cristi 74 ciao Cristiana saluto Mauro del canale Mauro i Profumi saluto Martino se farà il tag del canale Martino Parfum World saluto Moreno del canale il diario di Dedo che mi ha detto farà anche lui questo tag anche se non parla di Profumi saluto anche Cuba Libre che non so se farà in realtà questo tag perché non ho fatto in tempo a comunicarglielo ma la taggo e poi taggo anche tutti quelli che ovviamente lo vedono se questo tag mega galattico devastante vi piacerà per farvi conoscere di più dalle persone che vi seguono se vorrete farlo avrete voglia un po' impegnativo ma insomma alla fine io penso che sia un bel tag me lo direte voi ragazzi ciao e ci vediamo alla prossima buona vita